ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi chiusemo light burn nel video di oggi andrò a spiegare quali sono le impostazioni che io ritengo fondamentali per chi inizia a fare muovere i primi passi infatti questo video è un video della serie di primi passi a chi inizia a fare i primi passi con il laser e con light burn ci sono alcune funzioni che magari all'inizio non si capiscono non se ne capisce l'importanza non si capisce il significato per cui non vi faccio un fra virgolette romanzo lunghissimo su quello che può essere tutte le impostazioni dalla prima all'ultima anche perché secondo me non serve dilungarci troppo vi faccio vedere quelle che però sono importanti perché sono quelle che vi dicono subito se siete sulla direzione giusta se avete impostato le cose per bene se vedete le cose che effettivamente usciranno e così via perché spesso signori anche l'anteprima inganna ma andremo a vedere dopo la sigla questo video vuole essere un video veramente breve per rispondere a quelle domande che spesso mi vengono rivolte nei commenti ai video ma li vedo spesso anche sul gruppo di facebook ma non solo il mio anche su altri gruppi facebook e riguardano sempre quelle due o tre cose che sono fondamentali per chi comincia infatti questo è un video primi passi quindi video primi passi e per chi inizia chi inizia ad usare il il laser allora parto subito da una cosa veloce veloce e vi do subito un suggerimento vi farò vedere due schermate di impostazioni come le preferisco io ma come le preferisco io non perché perché sono le più semplici sono le più intuibili e sono quelle che facilitano specialmente proprio chi sta iniziando ma andiamole a vedere la prima impostazione che io voglio andare a far vedere anzi la prima videata delle impostazioni è da modifica nel menu principale a impostazioni allora io vi suggerisco di farvi uno screenshot di questa parte qua oppure anche di tutto il video e vi tenete sotto mano questa in modo da ve la memorizzate da qualche parte un domani se vi succede qualcosa che non vedete bene fammi vedere se ho sempre le impostazioni come mi aveva detto italo allora quali sono le impostazioni che spesso mi chiedete perché a voi non vi funzionano principalmente una questa rendering riempito allora rendering riempito io lo tengo sempre attivo perché è vero che il sito è più lento ma non è vero perché forse poteva andare bene per il computer di qualche anno fa ma qualche decennio fa ma adesso con i computer velocissimi non è assolutamente più lento e l'anti-aliasing fa vedere le curve le linee eccetera molto più definite questi due io li lascio sempre attivi mentre non ho mai attivo ma non perché il modalità principiante ma lo sconsiglio anche principianti perché praticamente nasconde alcune funzioni che non è che vi complicano la vita se li vedete lì anzi forse magari vi generano un po' di curiosità per andare a vedere e magari farle quindi diciamo sul resto non vi dico nulla ecco questa è la mia configurazione di una macchina di iodo per cui millimetri minuto vedete le varie cose qui se le volete fare uguale le fate uguale identiche che secondo me sono le tre i migliori settaggi che ci sono la dimensione del font va un po' a piacere va anche in base alla dimensione dello schermo è uno schermo molto grande per cui ho dei font e delle icone abbastanza grandi e lo stesso le dimensioni della bar eccetera eccetera poi lì ognuno invece va un po' a piacimento se volete utilizzare le mie io utilizzo queste importante il rendering riempito perché almeno andiamo a vedere una cosa adesso ve la faccio vedere devo chiudere però questa finestra altrimenti non posso disegnare vado qua vado a disegnare un rettangolo in questo caso ho un livello riempito e come vedete questo vedo tutto colorato di rosso perché è un livello da 0.2 che è un livello rosso se io lo vado a selezionare e lo porto a livello 0 è sempre un livello riempito però lo vedo nero facciamo che ridisegno un altro rettangolo da un'altra parte e questo lo metto rosso lo faccio rosso così e poi magari me lo vado a selezionare e me lo metto così ok quindi io vedo cosa sto facendo che ho due livelli che sono uno diverso dall'altro uno rosso e uno nero non verrà bene la lavorazione perché si sovrappongono ma mi fa due riempimenti però se invece questo qua anche questo qui lo faccio diventare nero come il primo vedete come mi fa vedere l'effettivo come risulterà effettivamente la lavorazione quindi se lo sposto vedete se lo faccio così questa sarà la mia lavorazione qui sarà il bianco cioè sarà non lavorato quindi vi rendete conto se invece io avessi la situazione come vi dicevo prima quindi andiamo in impostazioni rendering lo metto rosso faccio così e vedete e non capisco cosa sembra quasi che faccia due due linee di perimetrali e basta e invece fa il riempimento infatti se lo con l'anteprima lo vedo che mi fa riempimento però se ce l'ho con la mia bella impostazione settata come piace a me ce l'ho subito in quel modo ok questa è la prima che vi voglio far vedere quindi rendering riempito lo so è una banalità ma voi non immaginate in quanti me lo chiedono quindi voglio precisarlo anche con un video allora secondo aspetto secondo aspetto riguarda un'altra cosa che spesso mi chiedete e chiedete nel forum nel forum, lo chiamo forum perché sono un po' all'antica nel gruppo di facebook che tra l'altro il forum comunque si chiama forum è il mio e spesso anche nei commenti al video un po' meno però nel gruppo abbastanza quindi di cosa vi voglio parlare? vi voglio parlare di una cosa che si trova in impostazioni periferiche anche qua vedete che ci sono questo si può lasciare tranquillamente così perché chi ha il diodo non ha bisogno anche questa è una domanda che spesso mi fanno cosa vuol dire offset puntatore è per quelle macchine specialmente quelle diodo che hanno un puntatorino laser esterno una crocettina che fa vedere appunto dove andrà a incidere perché non ha la possibilità di fare quello che vi voglio spiegare adesso che è l'abilitazione del pulsante di attivazione del laser e dell'accensione del laser mentre fa il framing anche questa è una domanda che viene posta perché non mi si accende la lucettina del laser quando faccio framing? semplice perché non hai impostato giustamente questa voce abilita pulsante di attivazione laser che mi si abiliterà questa attivazione di questi due un pulsante e uno slider per andare non è uno slider ma questa finestrina per andare ad aumentare e diminuire la potenza perché ci sono dei laser che magari necessitano un po' di più potenza per vedere il puntino sul piano di lavoro altrimenti io 0.75 ce ne ho più che assai e devo andare ad abilitare sia questo abilita il pulsante di attivazione che mi abiliterà questo quindi posso anche quando il laser è fermo vedere dove mi punta che è quella sottestante che è laser questa qui perché se questo è rosso quando facciamo il frame non si accende il laser vediamo il laser che gira ma non vediamo la lucina quindi dobbiamo andare ad attivare anche laser on when framing tradotto quando il laser fa il framing accendimelo ok accendimi la luce del laser quando fa il framing vabbè ultimamente ho visto anche qualche soluzione un po' strana nel gruppo spesso vedo come risposta tasto control mentre fa il framing tasto control no c'è questo il tasto control si usava tempo indietro questa è stata inserita da poco prima il tasto control serviva perché altrimenti non si accendeva per cui anche quando date suggerimenti date un'occhiata se avete una versione vecchia vecchia perché magari quello che state scrivendo o dicendo forse è superato da qualcosa di nuovo e se è nuovo solitamente è migliore e o barra comodo quindi sono queste principalmente anche qua fatevi una bella screenshot e se volete ecco tranne questo lo devo togliere e non interessa qui abilità 6Z la maggior parte di noi non ce l'ha poche macchine ce l'hanno se l'abiliteranno e per il resto queste sono le impostazioni con il valore 1000 ma ormai penso che questa sia una cosa veramente assodata perché anche quando vi arrivano i nuovi laser ci hanno già impostato nel controller ci hanno già questa impostazione io non vorrei aggiungere altro penso di aver già spiegato quello che voglio spiegare perché sono le domande più ricorrenti ma tutti i giorni quindi ci tenevo a fare questo perché i primi passi se partiamo con delle impostazioni così le più semplici le più basilari fatte in questo modo sicuramente riusciamo a lavorare bene a lavorare meglio e magari anche capire su progetti altrui oppure su video di altre persone eccetera eccetera come hanno impostato e perché vedete queste cose sul video di questa persona e non riuscite a farle venire fuori voi queste sono le spiegazioni adesso vi saluto vi lascio al prossimo video lo so questo è molto probabilmente chi è esperto queste cose ma l'ha saltato anzi sono già andati via dieci minuti fa però un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e buon lavoro perché dovete lavorare ma bene ciao ciao